Al via il processo a quello che potrebbe essere definito l'orco di Cavaglià. I militari dell'arma avevano arrestato un settantenne nel luglio scorso. Le accuse agghiaccianti. È accusato di violenza sessuale nei confronti della propria figlia, che avrebbe inoltre per tutta la vita tenuto segregata in casa, permettendole di uscire soltanto in sua compagnia o per andare a lavorare. Alla fine la vittima ha trovato il coraggio ed è riuscita a denunciare il suo aguzzino. La segnalazione da parte dei carabinieri di Cavaglià sarebbe poi approdata in procura alla sezione di polizia giudiziaria guidata dal luogotinente Tinnero Gullo. La voce intanto si è subito sparsa in paese dove l'uomo abita da tutta la vita. Ora, dopo un primo rinvio dovuto al contagio da covid dell'uomo, il procedimento giudiziario ha iniziato il suo iter e la giovane donna nelle ultime ore ha rilasciato una testimonianza con particolari terrificanti, durata oltre quattro ore. Poco alla volta pare stia riprendendo in mano la sua vita, dopo anni eterni di sopprusi, abusi, anche sessuali. Veniva trattata con metodi rudi e barbari da parte di quel padre padrone che ora da una cella del carcere di Via dei Tigli deve rispondere di accuse pesantissime.